Federico Valietti, nuovo acquisto del Taranto, innanzitutto quanta gioia c'è in questo arrivo in Puglia? Intanto buongiorno a tutti, sono molto contento di essere venuto qua a Taranto, in questa grande piazza, sono carichissimo, molto entusiasta e ho tanta voglia di rilancio. Tu sei stato a Vicenza negli ultimi due anni con un ottimo numero di partite disputate, sei scuola a Genoa, quali sono le tue caratteristiche e presentiamoti ai nostri telespettatori? Allora io sono un esterno a tutta fascia, posso fare sia il quinto che il terzino, che anche il braccetto nella difesa 3, ho molta corsa, gamba, mi piace spingere e niente, ho un sacco di polmoni diciamo. Cosa sai del Taranto di quest'anno? Il Taranto sta facendo molto bene, ora sto giocando anche sull'entusiasmo, c'è un grandissimo allenatore che prepara molto bene le partite, infatti sono venuto qua anche per questo. E niente, sono venuto qua a dare una mano ai ragazzi e sono molto carico per questa nuova esperienza. Quando ti hanno proposto Taranto quanto tempo ci hai messo per accettare? No, pochissimo, non appena ho sentito il nome della piazza e il nome della squadra sono venuto subito, non ho aspettato neanche un secondo. Hai detto subito che hai grande voglia di riscato e quindi dimostrarti a questo grande pubblico che vi aspetta e ti aspetta. Sì, 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 vedevo le partite ogni tanto del Taranto, vedevo tutto questo affiatamento anche da parte dei tifosi e mi ha reso ancora più entusiasta della notizia che appunto il Taranto era su di me e io non vedo l'ora di scendere in campo in questo stadio con tutti i tifosi. Subito aggregato, quindi subito disponibile anche per questa trasferta? Sì, sì, subito con la testa messina alla trasferta di domenica che è molto importante per continuare il nostro percorso ed è molto importante soprattutto anche per me mettermi subito a regime con la squadra.